Grazie Roberto, grazie a tutti e a tutti voi. Devo dire che Snyder è forte perché mi ha lasciato la lettera, la devo leggere praticamente, c'è già l'impegno sul bonus mobili sui giovani coppie. Non si può dire che non siano attrezzati bene, va bene? Quindi grazie di cuore per questo invito che era un impegno che ci eravamo presi l'anno scorso e che confermo volentieri. L'idea che la classe politica si abitui a rispettare gli impegni che prende mi sembra un dovere e anche un piacere per tanti aspetti perché venire qua al Salone del Mobile significa entrare in un luogo che è un luogo che tiene insieme due cose difficili da tenere insieme in Italia. Tiene insieme la tradizione, cosa c'è di più tradizionale del mobile, dell'arredamento e tiene insieme il futuro perché voi siete oggettivamente all'avanguardia. Però io sono qui sicuramente per discutere, abbiamo mantenuto in stabilità la misura, abbiamo inserito tutte le misure necessarie in stabilità e condivido che dobbiamo in prospettiva avere un occhio di riguardo per le giovani coppie soprattutto, per chi inizia a mettere su vita insieme, ma sono qua innanzitutto per dirvi alcune cose proprio dal profondo del cuore. Vorrei dirvi che noi del governo pensiamo che il Salone del Mobile sia uno straordinario, simbolo di come dovrebbe essere sempre l'Italia. C'è una parte, fatemi parlare libero che tanto è meglio, c'è una parte dell'opinione pubblica che pensa che il Salone del Mobile sia posso dirlo, non vi arrabbiate mica, roba da fighetti. Pensa che sia gente che dice, ah belli, gli eventi, ma guarda che carini. Qui non stiamo parlando di una roba da fighetti semplicemente, qui stiamo parlando di un pezzo dell'economia italiana di oggi e questo è quanto di più importante ci sia di un pezzo dell'economia italiana di domani. Io mi sono preso, grazie al lavoro di Fortis, un po' di simoni, un po' di dati, che sono dati straordinari. Davvero lo dico per gli operatori dei media. Cioè qui stiamo ragionando. Intanto il settore del legno è probabilmente un settore che sta soffrendo la crisi sul mercato interno e che ha dei risultati all'estero che sono straordinari. Anche da questo punto di vista paradigma dell'Italia. Poi parleremo un secondo di come fare a rilanciare i consumi a livello interno. Però il vostro settore è stato probabilmente un settore tra i più bravi in assoluto a cogliere la opportunità che deriva dalla crisi. Perché posso dirlo proprio in modo molto esplicito? Sta storia che noi nel mondo globale, noi italiani, non abbiamo più le carte in regola perché il mondo globale ci fa venire meno la nostra specificità, è una boiata pazzesca. Sono dieci anni, quindici anni, vent'anni che l'Italia continua ad avere un racconto in cui la globalizzazione è il nostro problema. La globalizzazione è il principale asset dell'Italia di oggi e dei prossimi vent'anni. Perché se noi riusciamo a capire che la globalizzazione significa che tantissima gente tantissima gente chiede più Italia, chiede più bellezza, chiede più qualità, la classe media aumenterà di 800 milioni di persone nei prossimi dieci anni. 800 milioni di persone. Se noi riusciamo a capire che la globalizzazione è la carta che noi possiamo spendere, allora se capiamo questo è chiaro che non si tratta semplicemente di un giocattolino per addetti ai lavori, questo evento qua. Si tratta di un pezzo della ripartenza dell'Italia. Certo, bisogna, posso dirlo, che smettiamo di piangerci addosso. Ed è chiaro che non si smette di piangere dalla mattina alla sera. Per smettere di piangerci addosso occorre uno che la politica faccia la propria parte. Quindi vengo a dire i miei impegni, ho preso un passare di impegni l'anno scorso, vi faccio il punto della situazione quest'anno e vi dico come torno al prossimo anno. Mi autoinvito, tanto poi Snyder viene a controllare se ho fatto i compiti in legge di stabilità. E vi dico che cosa faremo da qui al prossimo anno. Però poi c'è un passaggio che riguarda tutto il modo con il quale noi raccontiamo l'Italia fuori da qui. Perché se tutte le volte a quella tiritera tipica dei talk show e i cervelli vanno via e non se ne andiamo bene e nelle classifiche internazionali siamo dietro i paesi più disparati e più astrusi, tutte cose che non hanno senso nella realtà dei fatti. Perché l'Italia ha un sacco di problemi. Questo è un dato di fatto oggettivo. Ma se ce la mettiamo tutta, tutti insieme, questi problemi li sorpassiamo e li superiamo. Vi faccio l'elenco rapidissimo delle questioni che in un anno abbiamo affrontato. Mica tutte bene, tante cose si possono fare meglio. Io per primo dobbiamo cercare di migliorarci. Guai a credere a quelli che con la verità in tasca vi dicono ah beh non ci credete a quelli che vi raccontano che tutto è risolto. Però sul lavoro, le regole del lavoro sono finalmente cambiate, più semplici. E chi vuole assumere, tra di voi chi ha la possibilità, perché magari tira il mercato internazionale, di assumere, oggi sa che per tre anni le spese per l'assunzione sono decisamente più basse, per tutti è cancellata l'IRAP nella parte costo del lavoro e naturalmente non c'è più la preoccupazione per i medi grandi della mancanza di flessibilità in uscita. Due, la parte che riguardava i politici, legge elettorale, riforma costituzionale, vediamo la fine. Dopo che abbiamo passato gli ultimi mesi a discutere di come finire i lavori che da vent'anni tutti gli altri rimandavano, noi abbiamo detto basta, si decide, finalmente si fanno le cose, perché poi a un certo punto bisognerà pur decidere, anziché continuare come a Monopoli, che prendi tornate al vicolo corto, senza passare dal via. Dopo che abbiamo finalmente detto che noi si decide, che noi decidiamo, che noi siamo nelle condizioni di chiuderla questa partita, sappiamo che fatto il fisco, e entro metà giugno sarà formalizzato dal governo, e entro settembre sarà definitivamente approvato dal Parlamento il pacchetto fiscale, dice, bisognerebbe abbassarle le tasse, non soltanto semplificare, ma intanto partiamo da quello. Dopo che abbiamo fatto questo lavoro qui, la vera discussione strategica sarà, ehi, ma qual è il ruolo dell'Italia nei prossimi 20-30 anni, dopo aver passato il tempo a raccontare come risolvere i problemi che non hanno risolto quelli prima di noi? Vogliamo ragionare di che tipo di Italia avranno i nostri figli? Ecco, la mia scommessa, lo so che mi prendono per un ottimista, per un pazzerello, è che il mondo chieda Italia. E quando vedo le vostre realizzazioni, mi rendo conto che cultura più ingegneria uguale design, e cioè che l'Italia ha tutte le carte in regola per i prossimi anni, per poter essere protagonista. Bisogna affrontare questo periodo della uscita dalla crisi con un sostegno alla domanda interna. Perché il problema che si è bloccato è totalmente il mercato interno. Vi faccio notare che dal 2012 al 2014, in due anni, i risparmi degli italiani sono aumentati di 350 miliardi. Che vuol dire? Che noi abbiamo messo da parte, preoccupati dalla paura, direi terrorizzati, dal messaggio l'Italia in crisi, l'Italia sta fallendo, abbiamo messo da parte più del denaro che servirebbe per il cosiddetto piano Juncker. Ci sono 350 miliardi di euro in più nelle nostre banche. Guardate che fa impressione questa cifra, eh. È il segno che, se noi riuscissimo a ridare un po' di fiducia agli italiani, si sbloccherebbe finalmente anche il mercato interno. Perché la sensazione, qualcosa più che la sensazione, è che l'Italia sia stata paralizzata dalla paura. Ah, quando io dico dobbiamo rimetterci in moto, recuperare entusiasmo, recuperare fiducia, recuperare passione, non sto facendo l'esortazione di un allenatore che vede la propria squadra non in grado di vincere, allora la butta sul dai su ragazzi, sull'esortazione. Sto dicendo che questa squadra, l'Italia, è in condizione per i giocatori, organizzazione di gioco e tenuta fisica, di essere uno dei paesi che nei prossimi anni crescerà più di tutti gli altri. Però dobbiamo smetterla con questo atteggiamento per cui tutto ciò che facciamo noi fa schifo e tutto quello che fanno gli altri va bene. E perché questo accada, c'è bisogno che voi siate protagonisti. Voi, imprenditrici, imprenditori, lavoratrici e lavoratori, ma anche, permettetemi di dire, voi milanesi, so che molti di voi vengono da fuori Milano. Questo è un periodo particolarissimo per questa città. Milano, per chi la ama, fiorisce durante il Salone del Mobile qui dentro, ma se me lo permettete anche qui fuori. In città è un straordinario momento di presenza, di gioia, di dinamismo, molto bello, lo sa bene Maurizio Martina che sta lavorando con grande determinazione e dedizione al progetto dell'Expo. Ma Milano vive una fase particolare per quello che è accaduto qualche giorno fa e io, entrando in fiera, mi sono fermato a fare un piccolo gesto che è quello di ringraziare insieme al prefetto che è qui con noi, che è quello di ringraziare tutte le forze dell'ordine, c'è qui il questore, il comandante della Guardia di Finanza e in particolar modo quei carabinieri che l'altra mattina nel giro di poco tempo hanno recuperato l'identità, la targa, il motorino e disarmato quel killer che ha distrutto la vita di tre persone nel tribunale. Ovviamente la vera questione è come è possibile che in un tribunale si possa bypassare un controllo ed entrare armati e questo è un tema che ci sconvolge e che dovrà ovviamente farci fare una seria riflessione e addette ai lavori innanzitutto sul fatto che forse in Italia è troppo facile prendere un'arma da fuoco e che probabilmente dobbiamo immaginare faremo già nei prossimi giorni con il Ministro Orlando un tavolo di lavoro perché la difesa dei tribunali sia più sicura di come è stato ma non c'è dubbio che andare a dire grazie a quei carabinieri che attraverso un complicato sistema elettronico perché di fatto hanno preso la targa grazie a una collaborazione con il Comune hanno preso hanno capito chi era hanno preso la targa del motorino l'hanno inserita in un circuito in un cervellone si sarebbe detto una volta quando è scattato nel Comune di Brugherio un allarme la ZTL come se quando entrate dentro una zona vietata vi fanno la multa e non siete particolarmente felici quella targa è stata vista è partito un allarme sull'SMS del comandante della stazione il comandante della stazione ha chiamato il nucleo radio mobile il nucleo radio mobile ha preso ha capito dov'era e ha disarmato il killer segno evidente che c'è nella vita quotidiana di donne e uomini che servono allo Stato tanta 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 abnegazione tanto spirito di sacrificio e tanto eroismo allora io entrando qui ho voluto fare questo gesto ma questo gesto è un modo per dire a nome di tutti voi grazie a chi? a quegli italiani che con il proprio sacrificio dimostrano quotidianamente che l'Italia è molto più grande delle nostre paure e allora nel ringraziare loro e nel ringraziare tutti quelli che la mattina vanno a lavorare e fanno di tutto voglio prendere un impegno finale con voi la politica ha sempre fatto un sacco di tavoli ma non i tavoli del salone del mobile quando non si sa cosa fare in politica si fa un tavolo c'è questa discussione? no noi abbiamo smesso di fare i tavoli abbiamo detto c'è da chiudere le regole vanno fatte le leggi vanno scritte le decisioni vanno prese però prendo un impegno senza fare un tavolo con voi gli interventi in stabilità che servono noi siamo pronti a confermarli e per quanto possibile a estenderli non abbiamo questo problema abbiamo però una richiesta da fare a ciascuno di voi la Milano che tra qualche settimana apre l'Expo la Milano che vi accoglie oggi e più in generale le città da cui provenite devono essere messe nelle condizioni di tornare a far respirare entusiasmo a questo paese allora le problematiche ci sono sì vanno affrontate sì vi sembra normale che oggi ci sia una pubblica amministrazione che richiede tempi assurdi per semplicemente per aprire un piccolo capannone e questo è un impegno che ci portiamo a casa noi eliminare quelle assurde tiritere burocratiche che fanno del male alla credibilità delle istituzioni noi dobbiamo essere in condizioni con un telefonino di gestire la pubblica amministrazione di sapere magari anche semplicemente quante tasse poter pagare ripeto se poi si abbassano medio ma intanto iniziamo a semplificare iniziamo a rendere più semplice la relazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione questa parte la faremo noi ma datemi una mano diamoci una mano perché c'è un sacco di gente in Italia che fa la ola quando le cose non vanno bene sono i commentatori sono una parte degli editorialisti non sono le opposizioni politiche che è giusto che ci siano e non sono nemmeno quelli che pensano che il nostro governo non stia facendo bene è giusto è legittimo che sia così è giusto che ci sia chi non è d'accordo e che cavolo siamo in democrazia però sapete cos'è che fa arrabbiare non quando la gente ce l'ha con me o con il mio governo che è bello normale e fisiologico che uno possa dire a me voi state antipatici ma quando la gente ce l'ha con l'Italia quando vedo uscire i dati dell'Istat che non vanno qualche volta va bene oggi c'è il dato che dopo 31 mesi i consumi dell'energia ripartono e vedo questi che quando vedono un risultato positivo mettono il broncio o che fanno una gara per andare sui giornali internazionali e dire no ma in Italia le cose non vanno o che nel nostro paese raccontano sempre che siamo un paese di cervelli all'estero come noi che restiamo in Italia fossimo una banda di rimbambiti loro sono cervelli all'estero noi siamo i pancreas rimasti in Italia cioè una cosa allucinante quando vedo la gente che fa l'ola per le cose che non vanno mi domando ma come era lo spirito di quelli che hanno fatto l'Italia ho visto ora l'azienda di Anzani e ne ho viste altre quotidianamente nel giro che faccio in Italia ma come era lo spirito di chi ha costruito le vostre aziende è gente che si è tirata sulle maniche si è rimboccata le maniche della camicia ha smesso di lamentarsi magari anche a mezza bocca c'era qualcosa a ridire ma le cose le ha cambiate perché? perché l'Italia è molto più grande del racconto negativo che fanno alcuni allora la cosa che vi propongo è noi faremo tutto ciò che serve in legge di stabilità durante l'Expo nei prossimi mesi noi lo faremo alla nostra parte ma aiutiamoci insieme perché qui in ballo non c'è la carriera politica di chi sta al governo chi se ne frega di quelli che stanno al governo qui c'è in ballo l'Italia e la scommessa è quella di dare una mano all'Italia che ci sta provando poi quelli che vogliono lamentarsi continuino pure a lamentarsi noi salveremo l'Italia anche per loro e dopo toccherà ai nostri figli poter vivere finalmente in un paese in cui il futuro sarà più grande persino del nostro passato in bocca al lupo e buon salone del mobile a tutti grazie a tutti e buon salone del mobile e buon salone del mobile